Iniziamo riprendendo un concetto che ho introdotto ieri in chiusura di lezione per aggiungere anche qualcosina. Ho fornito ieri il concetto di compatibilità tra due misure, che è un concetto fondamentale in quanto sostituisce, quando parliamo di misure, il concetto di uguaglianza tra misure. Perché non ha senso parlare di uguaglianza tra misure? Abbiamo detto che qualunque processo di misurazione introduce un'incertezza, la misura non è un numero ma un intervallo di valori, ecco che se io faccio una misura e poi ne rifaccio una in un momento successivo, abbiamo detto che generalmente ottengo un altro numero, però ovviamente non ha proprio senso porsi il problema di uguaglianza tra due processi di misure. Invece è importante capire se due misure effettuate da due persone diverse o dalla stessa persona in momenti diversi, con metodi diversi, se sono tra loro, usando un altro termine, potremmo dire coerenti, se possono essere ritenute entrambe corrette. Allora, due misure possono essere ritenute entrambe corrette se sono compatibili, ovvero se gli intervalli identificati dai due valori di misura e dalle relative incertezze, se questi intervalli hanno almeno un punto in comune. Come dicevo ieri, la proprietà di compatibilità tra le misure non gode della medesima proprietà dell'uguaglianza, ovvero non ha la proprietà transitiva, nel senso che se una misura A è compatibile con una misura B e una misura B a sua volta è compatibile con una misura C, non è detto necessariamente che A sia compatibile con C. E questo l'abbiamo già evidenziato ieri. Volevo fornire qualche ulteriore considerazione, farvi qualche ulteriore considerazione su perché mai delle misure possono risultare non compatibili? Perché può succedere che io effetto una misura, poi fornisco lo stesso oggetto ad un altro interlocutore che prende un altro strumento, magari il mio stesso strumento, fa la misura e ottiene un risultato non compatibile col precedente. Allora, le motivazioni più classiche sono due. Le due misure non sono compatibili perché il misurando è cambiato e questa è la interpretazione buona, nel senso che tutti e due stiamo facendo correttamente l'operazione di misura, però l'oggetto che stiamo misurando è cambiato durante le nostre due operazioni di misura e quindi ovviamente troviamo due cose non congruenti tra loro. Un altro motivo per cui due misure possono risultare non compatibili è che uno tra noi, o entrambi, abbiamo sottovalutato l'incertezza di misura. Perché è evidente che se io ho una misura e un'altra e queste due misure hanno due intervalli senza nessun punto in comune, è ovvio che se uno degli intervalli si allarga può capitare che le misure a questo punto diventino compatibili. Questa considerazione mi serve per sottolinearvi un aspetto abbastanza anomalo del processo proprio di misura. Se io vi dico che ho fatto una misura con una piccola incertezza, voi che mi dite? Se è stato bravo, cioè tanto più piccolo è l'incertezza tanto migliore il processo di misura. Ho usato uno strumento più preciso, ho seguito una serie di accorgimenti tali da ottenere un risultato di qualità migliore. L'incertezza in qualche modo può essere vista come il parametro di qualità di un processo di misura. Di solito quando uno fa una cosa di maggiore qualità ottiene un risultato, quando si impegna di più ottiene qualcosa di qualità migliore. Che cosa può succedere? Può succedere che io viceversa abbiamo detto che al determinare il valore dell'incertezza contribuiscono vari fattori. Io devo tener conto dell'incertezza ad esempio valutata con una strada tipo A, posso andare a considerare gli effetti di temperatura, gli effetti di disturbi nell'ambiente, tutta una serie di elementi che vanno ad aumentare l'incertezza di misura. Se io viceversa dico no vabbè ma la temperatura non importa, no ma i campi elettromagnetici non interessano, no ma io ottengo un'incertezza più piccola, quindi mi sembra di ottenere un prodotto di qualità migliore. Cioè minore il mio impegno nella stima dell'incertezza migliore è il risultato che mi sembra di ottenere, quindi è il contrario di quello che succede di solito, più mi impegno migliore il prodotto. Qua se io faccio una stima dell'incertezza fatta male ottengo un'incertezza più piccola. Che mi succede però? Mi succede che se io ho sottostimato l'incertezza di misura, poi faccio fare a te la misura, le nostre misure possono risultare non compatibili. La guida, come vi ho detto, sono 130 pagine di norma, di cui 40 sono proprio la parte tecnica, quella che riporta le cose che abbiamo visto, incertezza di tipo A, B, C, incertezza estesa, propagazione dell'incertezza e quant'altro. Le altre sono appendici in cui fa una serie di considerazioni, una serie di esempi. Tra le considerazioni che fa, in un punto la guida fa un'affermazione abbastanza forte, se vogliamo, dice che il processo di stima della misura è un processo di natura, di tipo etico. Allora parlare di etica quando si parla di misure sembra un'affermazione un po' forte. Però c'è sotto questo concetto, cioè se voi fate la cosa in maniera coscienziosa ottenete un'incertezza più grossa e quindi un prodotto che vi vendete a un prezzo peggiore, diciamo, perché il risultato è più scadente. Però fate una cosa corretta. Una situazione tipica è quella che succede quando si fa i confronti fra i laboratori, cioè i vari laboratori internazionali o anche i laboratori accreditati italiani ogni tanto fanno un confronto interlaboratori per verificare se fanno ancora le cose correttamente come al momento in cui sono stati accreditati. Allora che succede? Si prende un oggetto e questo oggetto viene passato di mano in mano, un oggetto blind, un oggetto di cui nessuno conosce il valore. Allora io lo do a te e tu lo misuri, poi lo misura lei, poi lo misuri tu, poi lo misura lei, alla fine ritorna a me. Il primo che ha iniziato a fare la misura lo misura anche alla fine per controllare che nel frattempo con tutti questi passaggi di mano non sia cambiato e a questo punto si confrontano tutte le nostre misure e allora mediamente trovi tutte misure compatibili. Qualche volta trovi anche laboratori molto importanti che si trovano con misure non compatibili con tutte le altre e perché? Perché per qualche motivo la loro strumentazione, il loro metodo, le persone che fanno le misure non sono più in grado, hanno sottostimato qualche sorgente di incertezza. Quindi è una situazione pubblica in cui si vede che chi ha stimato la propria incertezza in maniera insufficiente si trova non compatibile con tutti gli altri. Quindi compatibilità e non uguaglianza fra misure. Ci capita in alcune esercitazioni di misurare uno stesso oggetto con due metodi e poi alla fine io vi chiederò verificate se le misure che avete ottenuto sono compatibili. Quindi voi in un caso otterrete un misurando con l'incertezza, stesso misurando con l'incertezza e controllerete che gli intervalli ammettono almeno un punto in comune. Allora chiusa questa parentesi che avevamo aperto ieri, chiudiamo almeno da un punto di vista teorico questa parte in cui ci siamo occupati di valutazione dell'incertezza di e iniziamo a preoccuparci di strumentazione. Nel senso che abbiamo detto che tutto il corso si sintetizza alla fine in questa relazione, misura più incertezza e unità di misura, sulle unità di misura ci siamo già soffermati, sistema internazionale e quant'altro, sull'incertezza ci siamo soffermati in maniera anche abbastanza estesa, adesso dobbiamo occuparci di tirar fuori le misure. Le misure le tirano fuori o singoli strumenti o insiemi di strumenti, quindi parleremo o di strumenti di misura o di metodi di misura, intendendo per metodo un montaggio di un opportuno circuito in cui utilizzo vari strumenti e poi un'equazione che ci consenta di stimare il misurando. Prima di parlarvi del primo strumento che andrete anche a utilizzare in laboratorio, che è il multimetro numerico, che è uno strumento che ci consentirà di fare misure di tensione, di corrente, di resistenza in continua e in alternata. Quindi è nello stesso tempo un volmetro, un amperometro, un ommetro. Cerchiamo di capire in generale se io devo misurare una tensione in un circuito, che cosa mi aspetto, che cosa devo inserire nel circuito, se devo misurare una corrente, che cosa devo inserire in un circuito. Sono discorsi abbastanza semplici, che probabilmente già conoscete, ma è bene soffermarsi un attimo. Allora, partiamo da un circuito, ho un certo carico, una certa resistenza, in questo circuito circola una certa corrente, e ai capi di questa resistenza ho una certa caduta di tensione. Corrente, tensione, resistenza. Come faccio a misurare correnti? Allora, le correnti, voi sapete, si misurano in ampere e lo strumento che misura corrente prende il nome di amperometro. Allora, qualunque strumento di fatto deve sentire la grandezza che va a misurare. Allora, siccome la corrente, almeno quella di cui ci interessiamo noi, perché le correnti circolano, ci interessiamo per adesso di correnti che viaggiano nei fili, tenete presente che le correnti possono viaggiare in piastre conduttrici, le correnti viaggiano nell'aria, quindi diciamo ci sono anche misure di corrente un po' più complicate di quelle che andiamo a affrontare in prima battuta, però adesso immaginiamo avere un filo e quindi la corrente che circoliamo. Il modo per misurare la corrente è andare a inserire in serie al nostro circuito questo strumento che prende il nome di amperometro. Quindi io interrompo il circuito, ci infilo questo dispositivo, faccio in maniera tale che la corrente entri ed esca da questo dispositivo e poi completo il circuito. Allora, connessa a qualunque tipo di misura, va introdotto un concetto che è quello di consumo di uno strumento. Quale sarebbe la cosa ideale? Cioè, quando io vado a fare una misura, la cosa ideale, il mio obiettivo da raggiungere è di far sì che l'introduzione dello strumento di misura non perturbi il sistema su cui sto facendo le misure. Cioè, devo evitare che io avevo un circuito e voglio sapere qualcosa delle grandezze fisiche in questo sistema, voglio evitare che quando vado a mettere lo strumento, cambio le condizioni in cui stavo funzionando. Immaginate, se dovete fare una misura di temperatura in un fluido, non è che vi può succedere che inserite lo strumento di misura, il termometro e cambia la temperatura del fluido. Perché a quel punto poi levate lo strumento di misura, la temperatura ritorna a quella di prima e voi non avete misurato effettivamente il misurando, ma quello che il misurando diviene quando arriva lo strumento. Stesso discorso qui quando misuro correnti. Devo far sì che quando inserisco questo oggetto, questo circuito cambi il meno possibile. Allora si parla di consumo, il termine consumo viene usato per indicare la perturbazione introdotta da un qualunque strumento di misura nel circuito in cui viene inserito. Secondo voi, che caratteristiche deve avere questo amperometro per perturbare il meno possibile? È un oggetto che è inserito in serie nel circuito. Quindi, lui deve sentire la corrente. Non c'è niente da fare, per sentire la corrente lui dovrà in qualche modo introdurre nel circuito qualcosa, cioè non si riesce a sentire senza in qualche modo assorbire energia dal sistema in cui si sta effettuando la misura. Ecco che questo strumento è caratterizzato da una sua piccola resistenza, chiamiamola R con A, una resistenza interna, che vedete perturba questo circuito, perché se io avevo qui una certa tensione V e la legge che regolava questo circuito era V uguale R per I, adesso io ho V uguale R più RA per I. Quindi qualcosa è cambiato. Se la tensione era un oggetto impresso, cioè bloccata dall'esterno, che succede? che se V resta lo stesso e diminuisce la corrente, perché è cresciuta la resistenza. Se viceversa era la corrente quella ad essere impressa, quella ad essere vincolata dall'esterno, e allora la tensione è più alta. Quindi in qualche modo io introduco una perturbazione. questa RA deve essere il più possibile piccola rispetto alla resistenza del circuito in cui sto effettuando la misura. Quindi ricapitolando, gli amperometri sono oggetti che si inseriscono in serie al circuito e devono essere caratterizzati dall'avere la più piccola resistenza interna possibile. Cosa succede se viceversa voglio misurare la differenza di potenziale ai capi di questa impedenza? Inserisco un volmetro. Il volmetro è un oggetto che viene connesso viceversa. Ragazzi, voltmetro, non voltometro come spesso si sente, diciamo, per chi ha provenienze istituti electrici c'è il voltometro. Allora, amperometro in serie, volmetro in parallelo. Anche lui non può essere caratterizzato, non può essere un'entità non astratta. Lui ha pure lui una sua resistenza interna. Chiamiamola Rv. Che caratteristiche deve avere questa Rv, secondo voi, per perturbare il meno possibile questo circuito? Rv deve essere il più elevato possibile rispetto ad R, in maniera tale che prelevi dal circuito una componente di corrente, una porzione di corrente, talmente piccola da far sì che io possa ritenerla trascurabile rispetto al resto del circuito. Di tutta la corrente me ne prelevo una piccola parte. Vedete, io un pochino devo consumare, un pochino qualcosa la devo prendere dal circuito, perché se non prendo niente non posso fare le misure. Cioè, io volmetro, se non vengo attraversato da un po' di energia, se non prendo un po' di energia da qualche parte, non posso fare misure. Ok? Non si riesce a fare misure senza perturbare. Vedremo, quando misureremo temperatura, le termocoppie, non so che misurano temperatura, trasformando la differenza di temperatura in una forza elettromotrice, una tensione, e questa tensione, da qualche parte, l'energia per tirar fuori tensione, la devono prendere. Se no avremmo inventato degli oggetti che generano energia. L'ago, su una scala, si deve muovere. Chi lo sposta sta? È il circuito. La corrente, la tensione, che prima andavano al carico per accendere una lampadina, adesso un pochino, un po' di questa energia viene usata per consentirmi di misurarla. Ok? È ovvio che il processo di misura deve essere il meno invasivo possibile. Meno invasivo, tanto migliore la qualità della misura. Allora, questo per darvi le indicazioni più generali che devono essere offerte da un volmetro e da un amperometro. Di volmetro i amperometri ne esistono svariati tipi, in questo corso noi vedremo soltanto il multimetro e tutto sommato l'oscilloscopio ci consentirà anche l'oscilloscopio di fare misure di tensione corrente. Comunque, prevalentemente vedremo multimetri e useremo i multimetri. Allora, vediamo com'è fatta l'architettura generale di un multimetro. Multimetro, cioè ci consente di misurare varie cose, no? Abbiamo visto cosa ci consente di misurare. Partiamo dal suo cuore. Il suo cuore è uno scatolotto, su cui in questo corso ci soffermeremo molto, diciamo senza entrare troppo all'interno. È uno scatolotto che prende il nome di convertitore analogico digitale. E quindi per noi adesso è un oggetto magico che ci porta dal mondo analogico al mondo dei bit o analogico digitale. che cosa vuol dire grandezza analogica e cosa vuol dire grandezza digitale. Digitale sta per digit, cifra. Quindi una grandezza digitale o, usando un termine più corretto dal punto di vista italiano, numerica, infatti qualcuno qua nei libri più puristi trovate AN, convertitore analogico numerico o numerale ma ci... oramai ci si vide un po' addosso. Analogico digitale. La grandezza digitale è una grandezza che varia per valori discreti. Quando voi avete dei digit, delle cifre, siano queste cifre binarie, siano queste cifre digitali, cifre decimali, e voi una volta che avete deciso che le cifre sono dalle, non so, centinaia ai decimi, poi la risoluzione, cioè la minima variazione possibile è quella dell'ultima cifra che vedete su un display. Ok? Quindi, il discorso digitale è automaticamente connesso ad una variazione di tipo discreto. Le grandezze analogiche sono quelle con cui siamo abituati ad avere a che fare nella vita pratica. Quasi tutte le grandezze con cui abbiamo a che fare variano con continuità. Nel senso che quando io parlo di tempo, io posso suddividere questa quantità teoricamente, almeno concettualmente, in quantità piccole quanto si vuole. Se io parlo di tensione posso immaginare che la tensione sia, possa essere suddivisa e variare di quantità piccole quanto si vuole. È ovvio che quando parlo viceversa di strumentazione analogica, anche la strumentazione analogica non riuscirà a misurare una quantità piccola quanto si vuole. Perché anche la strumentazione analogica ha una risoluzione. Vi ricordo, ieri abbiamo definito la risoluzione la più piccola parte che riesco a misurare, a leggere. Allora, se ho uno strumento digitale è facile parlare di risoluzione perché è l'ultima cifra che vedo generalmente su un display a cristalli liquidi. Su una grandezza analogica io ho un ago e una scala graduata e la risoluzione è la minima lettura che riesco ad avere sulla scala. Cioè, l'ago si muove con continuità il termine analogico sta per analogo nel senso che il lago lo vedo muoversi in maniera analoga a come varia la grandezza fisica. quindi si muove con continuità non vuol dire che lo strumento analogico misura con continuità nel senso che io alla fine se qua ho delle tacchette 0V 1V e ho 10 tacchette la mia risoluzione non riesce ad andare oltre o la tacca quindi le risoluzioni di 0V o in qualche caso vedremo che negli strumenti analogici riesco a leggere la mezza tacca nel senso che qualche volta posso vedere se sta su una tacca se sta sulla successiva o se sta a metà tra le due e quindi in questo caso se io ho la presunzione di poter leggere la mezza tacca quanto vale la risoluzione 0,05 volt quindi ricapitolando strumenti analogici sono strumenti in cui l'uscita varia in maniera analoga o è un ago su una scala generalmente varia in maniera analoga alla mia grandezza fisica ciò non di meno sia lo strumento analogico che lo strumento numerico sono caratterizzati da una risoluzione finita non sono in grado io di avere una lettura con risoluzione piccola quanto si vuole allora il multimetro è uno strumento numerico quindi il risultato finisce su una scala digitale su una scala un display a cristalli liquidi quindi quello che mi viene a valle della conversione analogico digitale è quello che arriva vedremo fra un attimo c'è una memoria c'è una decodifica e c'è un display ok? un display ma questa è una parte non metrologica no? oramai una volta che ho un numero su un su un computer su una memoria una volta che ho dei bit la misura l'ho fatta la parte di misura è quella che viene a monte del convertitore analogico digitale allora questo scatolotto vi ho detto su cui per adesso non entriamo non trasforma una qualunque grandezza analogica in una grandezza numerica lui vuole in ingresso tensioni continue in un intervallo di valori abbastanza definito nel senso gli vanno bene valori tra 0 e 10 volt valori tra meno 5 e 5 volt valori tra meno 10 e 10 insomma quest'ordine di grandezza 0,5 ma noi abbiamo la voglia la presunzione di misurare con questo strumento tensioni correnti resistenza in continua in alternata non solo ma lì non vi ho precisato in che campo di valori io con questo scatolottino che costa quelli più economici anche poche centinaia di euro io riesco a misurare tensioni che vanno dai millivolt ai millevolt correnti che vanno dai microampere alla decina di ampere resistenze che vanno dai millio ma anche un po' di meno fino ai megaohm quindi è uno strumento che è multi non soltanto funzione nel senso mi consenti misurare diversi misurandi proprio ma anche diversi range diversi valori del misurando vuol dire che io qui devo mettere qualche altra cosa nella catena qui stiamo vedendo di fatto una catena di misura il professore Vigo vi ha fatto vedere in generale una catena di misura su certi tipi di dispositivi qua ne stiamo facendo un'altra su un dispositivo che fa misure di grandezze elettrica qual è una parte classica di una qualunque catena di misura la parte di condizionamento del segnale cioè io devo prendere il misurando che sta nel mio mondo fisico e lo devo pian piano adattare in maniera tale che lo strumento poi che fa la misura lo sappia fare in maniera corretta allora partiamo dal mondo fisico e partiamo dalla prima grandezza allora siccome questo sa fare misure di tensione continua partiamo dalle misure di tensione continua partiamo da quella che è la sua task per cui è nato allora mi devo collegare in parallelo al circuito ho bisogno comunque di due di due ingressi perché devo farli entrare un filo e un altro filo questi due ingressi li trovate indicati come H e L sul frontalino del vostro multimetro H sta per I L sta per L vabbè su che cosa voglia dire questo H e questo L ci ritorniamo fra un attimo per adesso sono due ingressi se la tensione continua è di 0 10 volt una tensione di 9 volt continua io li prendo da qua e la mando direttamente al convertitore analogico digitale e lui la trasforma in una serie di bit cosa succede se la tensione è più piccola o più grande allora è ovvio che io devo poter se è più grande devo poterla ridurre per arrivare al campo di valori che questo è in grado di misurare quindi devo inserire un blocco che prende il nome di attenuatore se ciò 1000 volt devo farli diventare 10 qual è il modo più semplice per attenuare un segnale elettrotempo questa sconosciuta V1 R1 R2 V2 V2 uguale V1 per R2 fratto R1 più R2 partitore di tensione facile facile due resistenze pochi spiccioli e una tensione molto alta può diventare una tensione più bassa ricordiamoci sempre ogni condizionamento del segnale introduce una incertezza aggiuntiva ok cioè se io devo misurare 9 volt l'unica incertezza me me la introduce questo scatolotto perché questo scatolotto non è che è magico che trasforma da analogico a digitale senza fare errori avrà una sua incertezza se se però la tensione è 1000 volt vabbè io 1000 volt emetto delle resistenze e queste diventano 10 volt ma i valori di r1 r2 questo è come dire v1 per k l'incertezza su v2 a che cosa è uguale? è funzione dell'incertezza su v1 e l'incertezza su k in particolare vi ricordo l'incertezza relativa su v2 è radice quadrata della somma dei quadrati delle incertezze relative su v1 o più incertezza relativa su k quadrato quadrato a sua volta l'incertezza su k dipende dall'incertezza su r1 e su r2 ma questo solo per dirvi che ogni pezzo che andiamo a utilizzare mi fa peggiorare le mie performance questo blocco in realtà oltre ad essere di attenuazione può anche essere di amplificazione perché? allora che mi serviva un attenuatore non vi siete stupiti perché certo se lui vuol misurare 10 e gli mando 1000 volt si rompe non lo sa fare se vuoi una bilancia che misura fino a 100 kg gli mettete 1000 kg si rompe non misuro o al massimo fa a fondo scala non vi consente di misurare secondo voi come mai serve anche un amplificatore vediamo se per? perché? troppo basso perché è brutto troppo basso che abbiamo detto ieri gli strumenti devono lavorare a fondo scala quindi anche il convertitore analogico digitale quando lo conosceremo meglio capiremo che dire 0-10 volt non vuol dire che se io misuro un volt lo misuro così bene come se misura come quando misura 10 volt ok? quindi devo cercare sempre di lavorare verso il fondo scala ecco perché con un attenuatore e un amplificatore l'amplificatore è un oggetto elettronico su cui per adesso noi lo riteniamo un oggetto magico ma non tanto magico a non introdurre pure lui una certa incertezza quindi devo capire che quando misuro millivolt ho precisioni peggiori che quando misuro il volt microvolt devo amplificare di più cosa succede se io anziché avere 500 volt in continuo ho 500 volt in alternata eh lui sa fare solo i misuri continuo se gli do un alternata non capisci devo mettere un altro blocco che si chiama ACDC converter convertitore alternata continua che se serve trasforma la mia grandezza alternata in una grandezza continua quindi se io ho una tensione continua alternata piccolo grande che sia con questi due eventuali blocchi perché io qua posso non passarci e qua posso anche avere amplificazione zero e attenuazione zero se ho dieci volt sono in grado di gestire le tensioni ma io voglio misurare anche le correnti mi serve un altro buco un altro ingresso e non solo lui sa misurare tensioni io ho correnti come faccio a trasformare una corrente in una tensione il modo più semplice per trasformare una corrente in una tensione è inserire una resistenza nota perché allora la corrente da origine a una caduta di tensione V uguale resistenza campione per corrente la corrente che io devo misurare la misurerò come rapporto fra la tensione e la resistenza RC nota quindi se devo misurare corrente mi attacco a questi altri due fili dentro lo strumento ha una resistenza e la resistenza trasforma la corrente in tensione qui bisogna inserire uno scatolotto che a seconda di quello che gli ho chiesto di misurare il multimetro ci stanno anche quelli più raffinati che hanno vari display ma il multimetro mi consente di fare una misura per volta quindi io gli devo dire che mi misuri di questa cosa la tensione continua la tensione alternata la corrente a seconda di quello che gli ho chiesto di misurare lui deve portare agli stadi successivi o questo segnale o questo se no gli dico corrente e lui misura questo non è quello giusto allora questo oggetto si chiama multiplexer l'acronimo la traduzione italiana è molto poco usata si chiama l'ho trovata in qualche testo come unità di scansione ma se dite a qualcuno unità di scansione non è detto che capisca se dite multiplexer capiscono tutti non è nient'altro che una serie di interruttori che collegano questa uscita a quell'ingresso che serve ok? sulla base della selezione che voi avrete fatto sul menu quindi se voi gli dite corrente lui attacca qua se lui dice tensione attacca qua se lui dite tensione alternata continua chiude questi interruttori sono tutti ovviamente comandati dalle vostre scelte allora in questo modo lo strumento è in grado di fare misure di tensione e corrente corrente alternata che dobbiamo fare? allora immaginiamo corrente alternata un milliampere immaginiamo che questa resistenza sia un ohm allora che succede? che questa la corrente un milliampere da origine a un millivolt un millivolt viene amplificato viene convertito da alternata in continua e viene convertito allora secondo voi quando andate a prendere le specifiche di questo multimetro trovate varie paginette o anche magari in alcuni più sintetici un'unica tabella grande dove vi mette le varie prestazioni le varie acchiurasi nei suoi diversi lavori quando fa il volmetro in continua quando fa il volmetro in alternata quando fa il lamperometro in continua quando fa l'amperometro in alternata secondo voi quale di questi lavori fa meglio? cioè se andate a vedere le specifiche quali sono le prestazioni migliori è ovvio che le specifiche da volmetro in continua sono quelle migliori di tutti perché non mettono dentro nessun condizionamento non solo ma nella tabella misure di tensione continua trovate la zona centrale che è quella di funzionamento intorno ai 10 volt che ha le precisioni migliori quando andate verso le scale più basse verso le scale più alte inizia a fare errori maggiori quindi tensioni continue sono quelle che fa meglio poi fa discretamente le correnti continue fa un po' peggio le tensioni alternate fa ancora peggio le correnti alternate corrente alternate piccole ne fa male se dovete misurare un micro ampere in alternata con un multimetro anche molto buono vi fa delle misure meno precise comunque il costruttore ve lo dice qual è la cosa a cui dovete stare attenti il display è sempre lo stesso qualche strumento più raffinato al variare della precisione vi fa scomparire alcune cifre alcuni digit per cui voi avete un display a 6 digit immaginate un bel display con 6 di queste cifre allora perché ve ne mette 6 ve ne mette 6 perché quando deve fare la cosa più precisa possibile vi servono 6 cifre cioè riesce a fare misure in cui ci ricolleghiamo al discorso di ieri risoluzione incertezza allora la risoluzione deve essere tale da consentirmi di essere migliore della migliore incertezza che riesco a ottenere perché se io riesco a fare misure di tensione con precisioni dell'ordine 0,03% vuol dire che io riesco a mi servono 6 cifre quando la mia precisione peggiora e io arrivo che le misure di corrente alternata microamperi mi basterebbero 3 cifre allora molto spesso io le cifre ce le ho tutte 6 perché le vedo me ne accorgo perché vedo che 3 stanno ferme e le altre le altre impazziscono oscillano però questo per dirvi che tra risoluzione cioè quello che leggo e precisione passa un mare ok quindi non è cattivo non è che il costruttore vi mette 6 cifre perché vuole imbrogliare vi mette 6 cifre perché deve consentirvi di leggere le misure più precise quando poi fate misure meno precise non sempre ve le riesce allevare ok come faccio a fare misure di resistenza la resistenza è un componente passivo mentre la tensione e la corrente sono delle grandezze attive cioè portano dentro energia la resistenza è una caratteristica di un materiale quindi se il materiale sta lì e voi ve lo guardate e vi collegate a sto materiale lui non vi dice niente è passivo non parla non vi riesce a dare energia non riesce a far passare niente allora l'unico modo per far per misurare resistenze allora la resistenza si collega direttamente agli stessi morsetti a cui che uso per le misure di tensione però per poter leggere questa resistenza devo fargli passare dentro una corrente cioè gli devo io far passare energia far passare corrente perché se no lui non non mi dice niente vuol dire che lo strumento ha all'interno un generatore di corrente nota che fa passare qua una corrente nota questa corrente passa nella resistenza trasforma a questo punto la resistenza di nuovo in una tensione tra l'altro sarà un generatore di corrente continua quindi già direttamente tensione continua quindi non sicuramente quando faccio misure di resistenza non interviene il convertitore a cdc qualunque multimetro ha perlomeno tre ingressi ok cioè tre morsetti ce li ha anche il multimetro che pagate quattro soldi nel negozio di elettronica è possibile avere anche un quarto morsetto che mi serve per misure di corrente più elevate io lo chiamo I e poi ci scrivo unfused senza fusibile che succede è molto difficile rompere un multimetro per tensione cioè sfondare un multimetro perché gli mettete più di mille volt è insomma tutto sommato quando sapete che ci stanno ci possono stare mille volt state molto attenti anche voi rompere un multimetro perché gli fate passare dentro troppa corrente è una cosa che può capitare perché alla fine se io gli ho detto che gli passano qua vedete ho scritto 10 ampere ma normalmente nella configurazione normale più di un ampere è difficile farci passare allora può capitare perché se io senza volerlo alimento con 10 volt un circuito in cui c'è un ohm automaticamente passano 10 ampere se ci ho messo l'amperometro l'amperometro si rompe allora come si fa a evitare di dover poi mandare l'intero amperometro a riparare gli amperometri sono provvisti di fusibile per cui si brucia il fusibile ma non si rompe lo strumento e se io voglio misurare corrente un po' più elevate una decina di ampere allora qualche costruttore vi rende possibile anche un ulteriore ingresso però ve lo mette da parte così voi se volete misurare una corrente più elevata e avete un altro posto dove mettere l'ingresso state concentrati insomma non vi può capitare che sbaglio ok quindi anzi in qualche caso questo ingresso ve lo mette sul retro dello strumento in maniera tale che voi state facendo una cosa che non vi capita per distrazione ok in quel caso sapete che le correnti sono più elevate lo mettete nell'ingresso senza fusibile e lo strumento a quel punto può misurare un po' più corrente però questo è un quarto morsetto che non ci si c'è non c'è vabbè aumenta un po' il range di funzionamento dello strumento non è concettualmente non c'è niente di nuovo qualche ragionamento invece lo dobbiamo fare per multimetri a 5 morsetti e siccome sono un po' particolari ce ne andiamo a fare su questa lavagna il problema riguarda le misure di resistenza come vedremo già nel corso di misure industriali le misure di resistenza sono diffusissime ma non solo perché perché mi interessa conosce il valore di resistenza di un resistore perché moltissimi sensori questo termine penso l'abbiate già sentito o comunque è il termine che viene usato per dire oggetti che sentono una certa grandezza fisica e la trasformano in un'altra grandezza fisica moltissimi sensori sentono ad esempio temperatura e la trasformano in una variazione di resistenza sentono una variazione di lunghezza e la trasformano in una variazione di resistenza sentono una variazione di pressione e la trasformano in una variazione di resistenza sentono una sollecitazione meccanica e la trasforma in una variazione di resistenza, termoresistenze, estensimetri e tutta un'altra serie di dispositivi trasformano grandezze fisiche in variazioni di resistenza, quindi sia se vogliamo misurare temperature, vogliamo misurare lunghezze, vogliamo misurare pressioni, vogliamo misurare forze, sollecitazioni meccaniche, allongamenti, compressioni, ci capiterà di dover misurare resistenze, quindi una buona fetta già di questo corso ci andremo a soffermare sulle varie misure di resistenza. Vediamo come la faccio in un sistema come ve l'ho fino adesso descritto. Faccio passare una corrente e misuro una tensione, ok? R sarà V diviso I, I è nota perché la metto io, V la misuro e conosco R. Quando è che nascono dei problemi? Quando o voglio fare la misura di R molto precisa o anche semplicemente quando R è molto piccola. Che mi succede? Mi succede che questi tratti di collegamento, ma anche il contatto che vado a creare tra bananina che vado a infilare nel filo e innesto dello strumento, nascono delle resistenze, queste sono le resistenze dei fili, RW, R wire, qua abbiamo delle resistenze di contatto, e che succede? Che la tensione non è più R per I, ma la tensione che misuro è R più, chiamiamole R parassite per I. Il termine parassita è un termine che viene molto usato quando si parla di misure, grandezze parassite o grandezze di influenza. Io chiamo grandezza parassita quelle grandezze che purtroppo entrano nel mio processo di misura, ma io non riesco in qualche modo a misurarle, non riesco a stimarle, non riesco a valutarle. Per cui vedete, queste RP, quando è che mi creano problemi? Mi creano problemi? Allora, dite voi, vabbè, ma quanto può essere la resistenza di un filo? Decimi di millio. Allora, immaginiamo, mettiamo un numero, 10 a meno 4 ohm. Quando è che 10 a meno 4 ohm per me è un problema? Allora, qui apro una parentesi che introduciamo per la resistenza ma vale per qualunque tipo di processo di misura. Quando è che un fenomeno, posso ritenerlo trascurabile, ma vado anche al di là delle misure. Quando è che, da un punto di vista ingegneristico, un fenomeno lo posso trascurare rispetto a un altro? Allora, devo tenere presente di due cose. Una è sicuramente i valori reciproci dei due fenomeni, quello di interesse e quello che devo eventualmente considerare o trascurare. Allora, è ovvio che se qui sto misurando 10 alla 6 ohm, 10 a meno 4 non mi dà fastidio. Misuro 10 alla 3 non mi dà fastidio. Misuro 10, boh, dipende. La cosa dipende? Dipende dalla precisione con cui voglio fare la misura. Un fenomeno è trascurabile rispetto a un altro sulla base dei due valori reciproci e della precisione con cui sto affrontando il problema. Un euro è trascurabile rispetto a 100 euro? Dipende. Qualche volta sì, qualche volta no. Perché in qualche caso, se sto valutando più o meno qualitativamente, se comprare una cosa o no, se costa 99 o costa 101 può non importarmi, ma se in tasca ho 99 euro? Un euro è fondamentale. Ok? Allora, se io sto facendo una misura che è rilevante ai fini del funzionamento di un impianto nucleare e può darsi che la quinta cifra della misura di questa resistenza può essere rilevante. Se sto facendo una misura della temperatura in questa stanza per sapere se ci stanno 20 gradi o 21 gradi, a me tutto sommato delle resistenze di contatto me ne può fregare. Quindi stiamo parlando o di misure di piccole resistenze o di misure di resistenze che non sono tanto piccole ma che devo fare necessariamente con elevata precisione. Allora, ci stanno queste situazioni in cui questi fenomeni parassiti mi danno fastidio. Ok? Non li posso trascurare. Come faccio a risolvere il problema? Utilizzo altri due morsetti. Anche questi avranno una loro... sono fili. Qual è però la differenza? Che quando ho quattro morsetti porto la corrente negli stessi due morsetti di prima, ma la misura di tensione la faccio tra questi altri due morsetti. Perché la cosa è diversa. Cosa misuro qua? Con questa nuova V. V4W. V4W è pari a R per I più RV per IV perché qui non circola I questa è la corrente I la corrente IV è quella che viene derivata dal volmetro che è caratterizzato da avere una resistenza di ingresso il più elevato possibile non ho specificato qui ma il convertitore analogico digitale sarà un oggetto che offre in ingresso un mega ohm di impedenza di ingresso quindi diciamo è un oggetto che soddisfa le caratteristiche di avere una elevata resistenza di ingresso allora vedete il trucco non è rendere piccole RV il trucco è far passare in queste resistenze una corrente più piccola rispetto a quella vedete la I arriva qui una parte se ne va da qua piccola perché perché un volmetro assolve poca corrente e quindi questo qui lo posso trascurare non perché RV è piccola rispetto ad R ma perché I con V è piccola rispetto ad I quando parlerete di misure di temperatura vedrete che quando voglio fare misure molto accurate userò termoresistenze che sono dispositivi che trasformano la temperatura in resistenza quando devo fare misure poco precise userò le termoresistenze a due fili quando farò le misure più precise userò le termoresistenze a quattro fili per misurare le termoresistenze a quattro fili mi servono i multimetri con quattro ingressi perché se no si quattro fili che me ne faccio? allora la morsettiera di un multimetro si è leggermente complicata quindi avremo il morsetto I il morsetto L il morsetto corrente questo I unfused lo vediamo da parte ve lo trovate ma non è particolarmente importante poi vi trovate un morsetto H 4W e un morsetto L 4W oh ragazzi ovviamente i costruttori fanno i frontalini come vogliono cioè quando avete un cruscotto e una macchina e chi mette gli abbaglianti a destra chi a sinistra chi mette una cosa chi un'altra la cosa fondamentale è che sapete che in una macchina ci stanno gli abbaglianti e gli abbaglianti da qualche parte ci devono stare allora se vedete che ci stanno 5 buchi poi li chiamerà in maniera diversa però l'importante è che voi sapete che servono 2 per le misure di tensione 4 se volete fare misure di resistenza a 4 fili 2 se volete fare una misura di corrente e quindi siete in grado di inserire i puntalini nel posto giusto ancora sul multimetro vi ho detto HL che vuol dire cioè la misura di allora noi usiamo il termine di tensione in maniera gergale sarebbe più corretto parlare di differenza di potenziale cioè la misura di tensione è sempre una differenza di potenziale tra due fili un multimetro posso capovolgere i fili cioè è importante il senso con cui infilo i fili H ed L allora gli strumenti che misurano tensione si dividono in due categorie le misure di tensione possono essere fatte la terminologia è un pochino gergale ma misure contro massa cerchiamo di capire e misure di tensione fuori massa allora che sto dicendo che se io ho due fili io posso fare una misura di differenza di potenziale con questo secondo filo che è a potenziale di massa cioè a zero o misure di differenza di potenziale in cui nessuno dei due fili è a potenziale vincolato i multimetri fanno misure fuori massa vedremo che gli oscilloscopi faranno misure di tensione contro massa riferiti a massa che vuol dire vuol dire vuol dire che il multimetro da questo punto di vista è molto più flessibile dell'oscilloscopio nel senso lui non è che non può fare misure in cui uno dei potenziali sia a zero lo fa tranquillamente ma può anche fare misure tra due oggetti che non vogliono essere a zero e allora se non c'è uno zero che senso ha parlare di lo e hai ha senso perché se io ho cento volte rispetto a zero allora c'è un basso e un alto se io non ho un mio riferimento è utile allora è ovvio che se sto parlando ad esempio immaginiamo di avere di voler misurare la 220 volt che troviamo nella presa voi sapete che la nostra distribuzione se non lo sapete ve lo dico è gestita con c'è una fase e c'è un neutro il neutro è a potenziale di terra quindi quando dite 220 volt non sono 220 che possono muoversi liberamente sono 220 volt in cui questo potenziale è zero uno dei due il neutro è la fase questo è utile nel senso che se mettete le dita qua non morite se mettete quale dita morite quindi diciamo è una cosa che uno un poco ci deve fare attenzione tant'è vero che ci stanno alcuni apparecchi a casa in cui non potete invertire se no si allora ritorniamo al nostro multimetro dopo questa parecchia allora HL secondo voi è la stessa cosa misurare 100 volt tra 0 e 100 o tra 10.000 e 10.100 allora delta V è 100 quindi se io dico ma io il mio strumento misura 100 volt lo attacco tra questi due fili lui sente 100 volt e li misura se voi attaccate un volumetro tra questi due fili il volumetro fa una bella botta come mai perché c'è una caratteristica di tutti di buona parte dei dispositivi ora dire tutti però insomma che prende il nome di tensione di isolamento in alcuni strumenti la trovate negli strumenti analogici tradizionali la trovate come valore riportato all'interno di una stellina trovate un numero dentro una stellina nei multimetri trovate un bel segno Zot con vicino scritto 1000 volt di C o 750 volta C comunque c'è di solito un bel warning sulla fronte qual è il problema? la carcassa del vostro multimetro è comunque o dovrebbe essere comunque a zero perché? ci mettete le mani voi ok? quindi nonostante lo strumento sia uno strumento che misura senza pensare alla massa la carcassa ci mettete le mani voi è a potenziale zero allora qui dentro avete poi i due bravi fili tra cui lui fa la misura secondo voi qui dentro c'è aria è uno scatolino tra l'altro piccolino un multimetro non è grande noi immaginiamo sempre che l'aria sia un isolante perché di fatto non passa la corrente ci sembra non passi corrente no? se io ho qua 100 volt e mi metto qui vicino non succede niente l'aria è un isolante ma non è un isolante ideale è un isolante fin quando non viene superata una certa tensione se no lui viene perforato quindi ci sarà la tensione isolamento è la massima tensione che ci può essere tra lo e carcassa ok? quindi con il vostro strumento potete misurare al massimo tensione di isolamento più la delta v massima con cui potete misurare rispetto al zero ecco che ha un senso ai e lo nel senso che il lo è quello che può essere spostato rispetto a terra ma non poi di tanto quanto tenete presente che questa tensione di isolamento a me mi è capitato di sfondare uno strumento che tra l'altro non era neanche particolarmente economico che aveva 24 volte di tensione di isolamento allora io l'ho usato per fare le misure su degli inverter avevo 220 volte contro massa no tra l'altro neanche pu perché quando muoiono di corrente gli strumenti fanno pu che si scioglie un filo quando muoiono di tensione fanno una botta perché si stanno dietro i condensatori quando muore quando diciamo se dovete decidere di rompere qualcosa bruciatelo in corrente sentite un po' di puzza di bruciato e capiamo che qualcosa che non è andato no allora allora voi metterete le mani su strumenti laboratorio per ovvi motivi cerchiamo cerchiamo di farvi mettere le mani su oggetti che possono mettere al più a rischio lo strumento e non voi quindi la tensione non sarà mai preoccupante le correnti possono un po' di attenzione qualche resistenza bruciata fa parte diciamo non inciderà troppo nella vostra valutazione dei santi allora tensione di isolamento ultimetri ci siamo completamente disinteressati del lato destro perché non vado direttamente su display allora a che mi serve la memoria ma questo lo capisco lo capirò un po' meglio quando capisco come funzionano i convertitori analogico digitali però per adesso vi basti capire oh ragazzi piccolissimo la misura non viene effettuata ex abrutto improvvisa non è che il convertimento analogico digitale vede la tensione e tira fuori il risultato ci arriva tramite una serie successiva o di conteggi o di tentativi a secondo del tipo di dispositivo allora mentre lui tenta e voi mica volete vedere sullo schermo i tentativi voi volete che lui fa i tentativi quando ha finito mette in memoria e la memoria resta sullo schermo fin quando non arriva il tentativo successivo la misura successiva quindi la misura arriverà ogni decima seconda del multimetro diciamo dell'ordine delle centinaia di millisecondi quindi diciamo io vedo vedrò lo schermo che si aggiorna se io non avessi la memoria vedrei le cifre che corrono non riuscirei neanche a fare la misura a che serve questo blocco di decodifica il convertitore analogico digitale funziona in binario voi funzionate in decimale allora se a voi vi mettessi 0 e 1 voi direste sì ma che è allora serve un blocco che trasforma i conteggi binari 0 e 1 in un codice allora vedete il codice che sta dietro ognuna di queste cifre innanzitutto è decimale quindi ragiono cifra cifra poi è un codice a 7 bit perché a seconda se il bit è 0 o è 1 si accende o si spegne il led quindi ad esempio se questo è il bit 1 2 3 4 5 4 5 6 e 7 se voi dovete scrivere 1 sarà il codice 001 001 perché 1 vuol dire accendere questi ultimi due lo 0 vogliono dire tutti 1 e il 4 a 0 quindi è un codice un po' particolare un codice che serve per accendere i led il conteggio viene fatto in binario e viene fatto con degli oggetti che si chiamano flip flop flip flop sono gli oggetti che fanno 0 1 0 1 0 1 0 1 e voi però volete contare 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 quindi il vostro modo di contare ha il reset quando arrivate a 9 resettate aggiungete 1 alla cifra successiva e ripartite da 0 un flip flop fa 0 1 quando arriva a 1 ritorna a 0 e mette a 1 il successivo quando arriva la seconda volta per contare fino a 10 quanti flip flop servono? 4 3 flip flop 2 flip flop contano fino a 4 3 flip flop 3 flip flop 33 trentini contano fino a 4 flip flop contano fino a 12 non ci serve però 3 contano fino a 8 e non ci serve allora quando io compro un multimetro a 3 cifre da sotto ci stanno 4 per 3 flip flop cioè dietro ogni cifra ho 4 flip flop nel mercato trovate anche multimetri a 3 cifre e mezzo a 4 cifre e mezzo a 5 cifre e mezzo che vuol dire? allora 3 cifre vuol dire che posso avere fino a 999 allora che pensiero fa il costruttore? dice Capperi conto fino a 999 se io mi conservassi solo l'overflow dell'ultima cifra io potrei arrivare fino a 1999 sto dicendo che io uso 4 flip flop 4 flip flop 4 e un flip flop qua con cui quando conto fino a 9 fino a 9 fino a 9 poi quando vado oltre alzo il bit dell'ultimo flip flop e raddoppio la scala allora siccome è economico perché rispetto a 12 flip flop ne aggiungo solo uno la mezza cifra ce l'hanno tutti vuol dire semplicemente che vedrete che il display ha delle cifre piene che arrivano fino a 9 e un'ultima cifra che o vale 0 o vale 1 in qualche caso ce ne mettono 2 quindi o vale 0 o vale 1 o vale 2 o vale 3 ok? tenete presente che i multimetri li trovate da 3 cifre 3 cifre e mezzo fino a 8 cifre e mezzo i multimetri attualmente più precisi 8 cifre e mezzo attenzione vuol dire che voi riuscite a misurare 100 volt 1,2,3,4,5,6,7,8 e mezzo misurando il micro volt una risoluzione di un micro volt su 100 volt quindi sono dispositivi tra i più accurati che esistono sul mercato su questo prendiamo poi un po' in giro i colleghi meccanici il buon Paolo Vico ha detto il professor Ebetta che le misure di inadezza elettronica facciano molto più precise cioè quando quando facciamo una misura di temperatura a 10 a meno 4 già abbiamo fatto una cosa eccezionale le misure di tempo e frequenza le facciamo a 10 a meno 12 10 a meno 13 qualunque swatch scadente vi fa perdere un secondo o boh ogni mai vabbè al di là di questa battuta vi volevo dare solo spiegazioni su mezza cifra che se no non si capisce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti